Ci sarà anche l'assessore alle politiche del lavoro Piero Fioretti alla riunione convocata oggi pomeriggio dal ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio sulla vertenza Mercatone 1. L'azienda sabato 25 maggio ha disposto la chiusura dei 55 punti vendita dislocati in tutta Italia. In Abruzzo, spiega l'assessore, la vertenza Mercatone 1 interessa 105 dipendenti che operano nei tre punti vendita, quello di Scerne di Pineto, 45 addetti, Colonnella, 30 addetti e San Giovanni Teatino, 30 addetti. Si tratta di una vertenza delicata che interessa molte regioni sulla quale il ministro Di Maio ha deciso di avviare immediatamente un tavolo nazionale anticipando la riunione che in un primo momento era fissata il 30 maggio. La cosa più triste di questa vicenda è che i dipendenti del Mercatone 1 hanno appreso questa notizia non dalla società ma dai mezzi di informazione, un comportamento francamente inqualificabile ai nostri giorni, dichiara il consigliere vice capogruppo regionale del PD Dino Pepe. Così dall'oggi al domani circa 100 dipendenti che lavoravano nei tre punti vendita abruzzesi si trovano senza lavoro e senza prospettive dopo che circa un anno fa, con il passaggio dello storico marchio alla Sherman Holding, la situazione pareva volgere al meglio. Siamo consci che quella del Mercatone 1 è un'avvertenza che riguarda tutto il paese e coinvolge 1800 lavoratori che chiedono risposte e auspichiamo quindi un intervento tempestivo da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico, con l'apertura di un tavolo apposito che veda coinvolte tutte le parti in causa, conclude in una nota Pepe. Sous-titrage Société Radio-Canada